Siamo davanti ai cancelli del velodromo di Vittoria. Stamattina, insieme ai consiglieri comunali delle indipendenti per Vittoria Scoglietti, Santo Cirica e Franco Caruso, abbiamo visto lo stato in cui si trova il velodromo, questa importante struttura. Abbiamo tra l'altro visto che è possibile entrare perché la recinzione è diversa, ma questo è soltanto uno dei punti in cui è possibile entrare. All'interno ci sono gli uffici, dovevano essere completati, in realtà a parte devono ancora essere completati. Una richiesta da parte dei due consiglieri al commissario straordinario. Non c'è nulla di politico, semplicemente un voler mettere in sicurezza l'intero impianto e poter renderlo fruibile alla cittadinanza. Vi abbiamo invitati qua per denunciare lo Stato e non andare avanti a colpo di comunicati stampa. Abbiamo fatto vedere la realtà, purtroppo, dello Stato, del velodromo, struttura bellissima, che potrebbe dare tanto a Vittoria, allo sviluppo, tutte cose distrutte, vetrate, a parte si può entrare da qualsiasi parte. Come possiamo ben vedere, infatti, recinzione di aria. Esatto, e quindi è veramente un peccato. Sicuramente il commissario straordinario sarà stato informato male, non ha fatto un soproluco come abbiamo fatto noi. e lo invitiamo anche lui insieme a noi, se vuole, con la massima disponibilità a venire. L'importante è che si risolve questo problema, si mette in sicurezza, si richiude, si distanziano quei soldi per completare. Perché è inutile dire che siamo pronti, aspettiamo solamente la manifestazione di interessi di società sportive per la gestione. Nessuna società al mondo prenderebbe una struttura del genere, che ci sono ancora centinaia di miliardi di euro di danni. Come si chiama, come si chiama, come si chiama, come si chiama. Grazie a tutti